Ciao a tutti, sono Raffael Bianco, coreografo residente della Compagnia Grebianco Danza, che codirigo insieme a Susan Negri da vent'anni. La compagnia infatti è una compagnia storica di Torino che ha compiuto vent'anni a novembre ed è una compagnia di danza contemporanea, prevalentemente, con anche lavori site specific e installativi urbani, ma insomma volevamo innanzitutto esternare la nostra solidarietà, esternarla alla comunità di Piacenza, alla comunità artistica di Piacenza e comunicarvi che il nostro spettacolo Fuga sarà riprogrammato in novembre, quindi ci sarà occasione di condividere insieme quell'evento. Noi vi mandiamo un grande abbraccio, speriamo in qualche modo ci siamo vicini e vicini anche con le nostre attività online dedicate a tutti coloro che sono in trincea per questa emergenza sanitaria. A prestissimo quindi e un abbraccio a tutti. Grazie.